sun68 è uno dei più importanti brand italiani di abbigliamento che accompagna le persone nella loro vita quotidiana il claim dell'azienda è everyday life dovevamo intercettare l'attenzione di chi vive nelle città italiane in cui sun68 ha i suoi store ci siamo chiesti come possiamo migliorare la vita quotidiana delle persone se vuoi sapere qual è il miglior sushi di milano infinite guide turisti che ti possono aiutare ma come trovare la migliore salumeria di modena qual è il miglior caffè di udine come si fa l'aperitivo a brescia abbiamo creato everyday life love your city un magazine online che dà spazio alla bellezza ultra local delle piccole cose raccontando ciò che succede nella vita quotidiana dal cibo allo sport della musica al lifestyle di tutte le città in cui c'è un negozio di sun68 gli autori del magazine oltre 80 influencer trasformati in guide locali sincere e appassionate e naturalmente vestite sun68 abbiamo pubblicato nuovi contenuti tutti i giorni creando da zero delle vere e proprie guide turistiche ogni mese 20 mila persone in target hanno letto gli articoli e visto i prodotti del brand i post sono stati condivisi in modo spontaneo da influencer artisti e personalità di spicco il risultato migliore oggi se vuoi sapere qual è il miglior hamburger a brescia quando visitare il parco naturale del sile o come fare un addio al nubilato a jesolo in prima pagina su google troverai sun68 è Grazie a tutti.